Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora qui in mia compagnia. Oggi vi presenterò un workout stretching. Gli esercizi che vedrete tra qualche istante vi aiuteranno ad allungare al meglio i vostri muscoli e così sentirvi più elastici e mobili. Siete pronti per allenarvi in mia compagnia? Andiamo pure! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!